Miei pro di viaggiatori, è tempo di preparare le nostre prossime avventure e oggi parliamo di un'app che può aiutarci a farlo Wikilock Questa app è una via di mezzo fra un social e un'app per i viaggiatori La troviamo sia per Android che per iOS e abbiamo anche la versione online come sito internet che è consultabile senza nessuna iscrizione Insomma, è un'app veramente democratica, ma il meglio deve ancora venire Wikilock è un contenitore dove escursionisti, camminatori, ciclisti, poi vi farò vedere nel dettaglio possono caricare le loro avventure, i loro percorsi e descriverli in modo del tutto gratuito Ehi, ma questa cosa la fanno anche altri siti, altre app? Vero, ma la maggior parte delle applicazioni o dei siti gestiti da guide descrivono dei percorsi, propongono dei percorsi ma non rilasciano mai la traccia, quasi mai, la traccia GPS Vabbè, e giustamente quelli ci devono guadagnare Cioè, vogliono che tu vai con loro a fare l'escursione, paghi Se ti lasciano la traccia GPS e ci fai da solo Cioè, mix o scemi Da utente di Wikilock invece tu potrai scaricare tutte le tracce GPS che ti interessano in maniera del tutto gratuita Addirittura puoi farlo anche direttamente dal sito Cioè, non devi neanche scaricare l'applicazione se non ti va È fantastico, no? Se siete alle prime armi o volete socializzare vi consiglio comunque di iscrivervi a qualche gruppo di escursione o di contattare delle guide perché comunque fanno un grandissimo lavoro Questa applicazione, come tutte, ha una versione free ma ha anche la possibilità di accedere a dei servizi aggiuntivi con la versione Pro Ma andiamo alle cose importanti Cioè, quanto costa quella Pro? Potrete avere la versione Pro di Wikilock a 9,99€ all'anno oppure a 4,99€ per 3 mesi Abbiamo anche la possibilità di provarlo gratuitamente per 14 giorni Madonna, mi metto a fare le televendite! Possiamo ovviare alla versione Pro in altre maniere ma lasciamo le considerazioni alla parte finale del video Ora andiamo a vedere nel dettaglio come funziona Wikilock Applicazione sola, soletta, nella home Andiamo ad aprirla La schermata iniziale è veramente intuitiva semplice, ha pochissimi tasti Allora, qui in alto abbiamo la barra di trova io ho scritto Viterbo Se cerchiamo Viterbo, Viterbo Lazio ci porterà nella zona del Viterbese e come potete vedere ci sono una serie di puntini, di pallini questi qui che vedete che indicano che qui c'è un percorso Se clicchiamo su un percorso ci mostrerà l'itinerario di cui stiamo parlando Questo che vedete è il percorso ad anello in bici che abbiamo selezionato ce ne sono anche altri a seconda di quello che cliccate vi propone un percorso ma andiamo a vedere come fare le nostre ricerche cioè cliccando su filtri ve lo faccio rivedere qui in alto a sinistra abbiamo la possibilità di scegliere tutto il tipo di attività e qui veramente vi potete divertire come volete come se non aver mai visto una quantità di attività addirittura il monociclo di montagna ma chi è che fa il monociclo di montagna? vabbè c'è canyoning, speleologia, snowboard, sport d'acqua con animali, su ruote accessibilità, motore cioè veramente addirittura ad aria cioè se uno vuole farsi un percorso col drone lo può poi salvare qui insomma qui potete scegliere l'attività che più vi aggrada subito dopo potete inserire la distanza il dislivello positivo cioè il dislivello positivo e la difficoltà tecnica potete anche selezionare se guardare soltanto i percorsi ad anello o no quelli sotto sono dei filtri premium quindi bisognerà pagare per poter utilizzare questi filtri quindi solo gli autori che segui oppure data di registrazione, mesi di registrazione oppure ci sono anche altri filtri ma questi li lasciamo per la versione premium torniamo alla nostra home su abbiamo quasi finito se vogliamo vedere la mappa rimaniamo su mappa se no qui in alto a destra abbiamo elenco possiamo vedere anche i percorsi su Viterbo semplicemente da un elenco e poi ce ne andiamo a studiare sulla nostra mappa io adoro le mappe quindi sto sempre sulla mappa cliccando su questo mappamondo qui in alto a destra andiamo alle mappe possiamo o scaricare delle mappe per averle offline oppure passare dalla visione satellitare a quella di rilievo ma comunque rimane sempre la mappa Google passiamo adesso alla parte bassa della nostra applicazione abbiamo qui in basso a sinistra l'Esplora che è quello dove siamo adesso passiamo al registra percorso è una classica applicazione per registrare i tuoi percorsi si seleziona il tipo di attività poi si clicca su inizia a registrare vi faccio solo vedere le cose principali qui in alto a destra abbiamo statistica vi dice tutte le vostre statistiche in questo momento sono fermo quindi giustamente non mi segna nulla se clicco invece qui sulla piccola bussola in alto a destra ci dà l'orientamento cioè dove siamo verso quale direzione siamo girati se invece vogliamo aggiungere una foto clicchiamo qui in basso a destra semplicissima ora cliccando sul pulsante rosso possiamo decidere se riprendere o porre fine alla nostra avventura è stata bellissima questa avventura scrivete nome descrizione volete aggiungere un altro compagno mettete su tutti i dati e salvate il vostro percorso è veramente facilissimo andando invece sulla sezione profilo qui ci sono i vostri dati io non ho praticamente mai inserito nulla su quest'app come potete vedere ma qui troverete tutti i vostri percorsi tracciati le vostre tracce GPS i vostri preferiti insomma potete veramente divertirmi come volete nel ricercare o nel proporre percorsi su questa applicazione è tutta qui è finita ecco l'unica cosa adesso passiamo alla versione Pro la versione Pro ha una serie di la versione Premium ha una serie di vantaggi prima di tutto la navigazione outdoor nella versione base non c'è quindi se acquistate l'abbonamento annuale o trimestrale avrete la possibilità anche di usarlo come navigatore poi abbiamo la possibilità di ricercare percorsi attraverso aree specifiche è un tipo di ricerca avanzata non la trovo fondamentale ma magari può essere utile il meteo come al solito non so perché lo mettono nelle cose Premium quando ci sono tantissime altre applicazioni che fanno la stessa cosa il rilevamento in diretta questa è una delle poche funzionalità aggiuntive che secondo me valgono i 9,99€ cioè possiamo condividere la nostra posizione minuto per minuto con chiunque voglia seguirci e questa è molto interessante anche per una questione di sicurezza o per una mamma pugliese che magari vuole sapere dove state invia il tuo GPS questo è per inviare diciamo le tue tracce direttamente su altri dispositivi tipo il Garmin ma si può fare anche diversamente filtri avanzati per fare delle ricerche aggiuntive le abbiamo visti prima quindi ricerca per mese per data di caricamento filtri elenco percorsi anche questa è una capacità aggiuntiva di fare delle ricerche più specifiche elenco dei percorsi organizzate percorsi che ti piacciono gli elenchi e condividi con i tuoi amici sì qui avete la possibilità di salvare i vostri percorsi con degli elenchi una sorta di preferiti e poi potete anche condividere questa lista e poi ci dice anche che se passiamo a premium l'1% del tuo acquisto torna al pianeta non lo so come gli faranno un bonifico ma torna al pianeta evviva sinceramente io non uso questa app mentre viaggio ne uso altre come ad esempio Locus Map vi metto qui il link di un video in cui ne parlo perché hanno una maggiore possibilità di personalizzazione e soprattutto usano delle mappe o danno la possibilità di usare delle mappe più dettagliate rispetto a quella di Wikiloc che è quella di Google utilizzo molto invece questa app in fase di preparazione cioè prima di partire se voglio dare un'occhiata alla zona vedere se ci sono dei punti di interesse o dei percorsi già tracciati questa app è fenomenale è utilissima quindi viva Wikilocchi iscrivetevi condividete i vostri percorsi e ricordate sempre se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino ciao 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 ciao